E anche la Germania prepara una graduale riapertura delle sue attività, poco a poco. A partire dal 4 maggio, scuole e licei torneranno a funzionare, così come qualche negozio. Come spiega la cancelliera in un briefing. Se torniamo progressivamente alla vita pubblica, saremo in grado di tracciare lo sviluppo dell'infezione al meglio. Deve essere il nostro scopo quello di essere capaci di trovare ogni linea del contagio. Ecco perché stiamo lavorando su di un'applicazione. Ma è soprattutto il compito delle autorità sanitarie, perché se possiamo farlo possiamo anche ridurre il raggio d'azione del virus. E quindi la normalizzazione della vita pubblica non sarà più così lontana, perché sapremo dove sono le fonti dell'infezione. Merkel ha anche aggiunto che le misure di distanziamento sanitario e sociale resteranno in vigore. Ecco perché gli studenti torneranno nelle classi contingentati poco a poco. La Germania ha inoltre prorogato le misure di controllo delle frontiere di altri 20 giorni. La Germania ha inoltre prorogato le misure di potere di un po' di loro indietro.